Alpi Tour è un mondo in cui i sogni diventano realtà, dove si lavora con un solo obiettivo, organizzare alla perfezione ogni aspetto del viaggio. Alpi Tour ha scritto la storia del turismo italiano e può vantare l'esperienza e la competenza dei migliori professionisti del settore. Un grande gruppo industriale che riunisce al suo interno tour operating, Aviation, Incoming, Hotel Management, Travel Agencies. Ciascuna unità presedia un aspetto della vacanza con il vantaggio di poter sviluppare efficaci sinergie che rendono l'azienda l'unico gruppo italiano integrato, sinonimo assoluto di viaggi e vacanze. Tour operating è il cuore del gruppo, leader di mercato grazie a marchi celebri, entrati per sempre nel cuore, nel vissuto e nella mente degli italiani. Racchiude una gamma sconfinata di proposte e soluzioni capaci di rispondere alle diverse esigenze di chi viaggia. Aviation Un viaggio inizia con un volo. NEOS è la compagnia aerea del gruppo. Ha una flotta di nove aeromobili che raggiungono le principali rotte turistiche di tutto il mondo. Nel 2017 aggiungerà alla sua squadra i nuovissimi Boeing 787 Dreamliner, gli aerei più tecnologicamente avanzati al mondo. Incoming Un viaggio aggrega molti servizi e la loro gestione, ai quattro angoli del mondo, è un'attività complessa. Jumbo Tours se ne occupa da decenni, non solo per il gruppo Alpitour, ma anche per i principali operatori europei. Per presidiare da leader il mercato Italia, è stata creata di recente Alpitour Incoming, che intende essere un punto di riferimento a livello internazionale per chi pianifica un viaggio nella nostra meravigliosa penisola. Per un focus specifico sul mare più bello del mondo, il gruppo ha Sardegna.com, il portale specializzato sull'isola che oggi sviluppa già più della metà del suo business con i mercati stranieri. Hotel Management Vera ospitalità italiana È questa la promessa offerta ai clienti che scelgono di soggiornare negli hotel della nostra catena, di cui il nome VOI Hotels è acronimo. Situati nelle più belle località del mondo, sono un punto di riferimento non solo per gli italiani, ma anche per un pubblico internazionale. Travel Agences Le agenzie di viaggio sono il principale canale di vendita del gruppo, che attraverso due network di proprietà, rappresentano la più importante realtà distributiva del turismo in Italia. Il mondo di Alpitour è tutto questo e molto altro. Che c'è, ma non si vede? Passione Creatività Innovazione Responsabilità Assistenza dedicata ai milioni di clienti che ogni anno ci scelgono per affidarci il loro bene più prezioso. Le vacanze A sssistenza